Dopo le operazioni di pulizia di gran parte del centro storico seguite da quella di alcuni luogo simbolo della città effettuata insieme agli scout, ora è la volta del litorale di Baia del Re. Si tratta di uno dei pochi tratti di arenile dove si possono ancora osservare rare specie vegetali, quasi completamente scomparse lungo la costa marchigiana. Le recenti mareggiate, come affermato dagli organizzatori, hanno purtroppo danneggiato quest'area protetta, asportandone ampie zone e ricoprendo quelle residue di rifiuti portati alla deriva dal mare. La pulizia della zona non può essere effettuata con mezzi meccanici che asporterebbero le piante rimaste e modificherebbero l'assetto naturale della duna. La pulizia a mano richiede l'intervento di molte persone che tolgano i rifiuti, in particolare quelli dispersi tra le piante. Un appuntamento aperto non solo agli attivisti dell'associazione ma anche agli volontari e agli cittadini e agli cittadini che vorranno essere con noi, io lo ricordo, a partire dalle otto e mezza per l'intera mattinata.